La sfera dell'alimentazione sta cambiando velocemente, dal modo di scegliere il cibo a quello di comprarlo e cucinarlo. Per questo nasce una guida. Il mercato è sempre più complesso e competitivo e diventa oggettivamente difficile per i negozi alimentari individuare le strategie vincenti. Con la guida si aiutano gli imprenditori del settore, soprattutto quelli più piccoli, fornendo una bussola in grado di orientare le scelte e le decisioni. La guida e il negozio alimentare è stato presentato da ConfCommercio di Ravenna. Noi vogliamo proprio dare agli imprenditori che saranno presenti stamattina degli spunti da poter portare immediatamente nei punti vendita per provare a rimanere sul mercato in un momento che sicuramente è ancora molto difficile. Quali sono questi spunti? Noi siamo curiosi e vogliamo conoscerli. Ma ci sono tantissimi casi perché orroniamente si pensa che il settore alimentare sia un settore maturo in cui non ci si inventa più nulla. Invece non è così. Abbiamo visto anche casi di piccolissimi imprenditori che hanno deciso di importare delle innovazioni incredibili come possono essere ad esempio tenere aperto molto meno rispetto agli altri ma facendo arrivare direttamente dal sud ad esempio i prodotti freschissimi come la mozzarella. Quindi tenere aperto solo tre giorni alla settimana con un prodotto freschissimo e il giorno dopo chiudere per far capire al consumatore che lì si trova veramente soltanto il prodotto fresco. Un altro caso ad esempio è di un supermercato che è in un centro storico quindi con una dimensione molto piccola che per far sì di avere un assortimento al passo con gli ipermercati ha deciso anziché di far fare la spesa fisicamente sul punto vendita di dare ai propri consumatori un apparecchio per farsi l'ordine portarlo ad un commesso che poi glielo prepara nel retro del negozio e quindi avere la possibilità in un negozio di 200 metri di avere un assortimento da 1000 metri.